Oggi con il Giro di Lombardia siamo venuti nelle case Aller di Milano, quartiere Niguarda, per prendere atto concretamente dell'emergenza abitazione, ma soprattutto per vedere l'esperienza dell'autogestione per tutti gli aspetti condominali da parte di molti cittadini lombardi che hanno voglia di vedere il risultato di una gestione efficiente della quale sono disposti a farsi carico.